cari amici quelli che lo sapevano e quelli che no fino al 9 aprile lavorerò il progetto di avviamento dello scene afghanistan della gakan foundation mi trattano bene mi considerano bene mi hanno offerto un'occasione per fare bene questa è la definitely place in the country for winter hiking and for winter sports e anche grazie per l'Italian Monasterio di Defensa, che hanno supportato con l'Italian supportazione per noi. Mi disse che metà del tuo impegno sarà per istruire due o tre persone che possano portare avanti il tuo lavoro senza di te. Mi chiamo Saeed El-Sha. Mi chiamo Sharafa, sono da Pamir. Ciao, questo è Mokhtar. Mokhtar.